Amici cacciatori e tiratori di All4Shooters e All4Hunters, cosa c'è di più importante a caccia e nel tiro che mantenere la concentrazione in pedana o ascoltare in maniera perfetta tutti i suoni che la natura ci suggerisce, tutto questo preservando la sicurezza del nostro udito nel momento dello sparo. Esigenze assolute, entrambe soddisfatte pienamente in un unico prodotto. Parliamo degli auricolari Shot Hound direttamente dallo stand di IWA 2017 e vediamo questa splendida gamma di prodotti, due dedicati all'attività venatoria e una all'attività di tiro. Ti ringrazio per la precisa e perfetta introduzione, vi accenno quelle che sono le due caratteristiche principali dei nostri auricolari, la prima è la protezione, protezione che è fondamentale per preservare l'udito del tiratore e del cacciatore e l'amplificazione, l'amplificazione che permette al cacciatore di sentire meglio quelli che sono i suoni fondamentali durante la cacciata e al tiratore di poter restare vigile e presente quando ci sono dei comandi di sicurezza, quando c'è lo sgancio della macchina e quindi restare vigile tutta la durata della sua giornata di allenamento. Il prodotto dedicato al tiratore si chiama PBS, progettato e prodotto proprio sulle esigenze che diversi tiratori ci hanno suggerito. Un bottoncino permette di cambiare l'amplificazione, quindi eliminare completamente l'audio circostante se si vuole restare concentrati. Schiacciando un'altra volta si ha una media amplificazione per poter tornare a sentire come il nostro orecchio ci permette. Se si schiaccia una terza volta invece si ha un'amplificazione addirittura maggiorata, quindi si sente in maniera superiore al nostro dito normale. Tutto questo sempre attenuando il rumore dello sparo di 32 decibel, quindi avendo una protezione davvero davvero molto molto elevata. Passiamo poi al modello da caccia, si chiama Shotant Standard perché è il primo nato della famiglia. Ha questa rotellina che permette di aumentare o diminuire il volume in base alle proprie esigenze. Cosa vuol dire? Il nostro dito non è proprio perfetto, soprattutto se si è sparato parecchio, tra l'orecchio sinistro e quello destro. Con questa rotellina noi possiamo andare ad aumentare e quindi andare a bilanciare il nostro dito per riavere quella direzionalità, quella stereofonia che è fondamentale per individuare la posizione del selvatico, del biper. Ci ridà quella possibilità di sentire in maniera davvero davvero precisa. Il terzo modello invece è il modello che noi definiamo wireless perché oltre ad avere le due funzioni di amplificazione e di protezione, anche la possibilità di comunicare, comunicare con walkie talkie o cellulare, quindi è veramente un perfetto compagno di caccia per chi fa battute. Si ha la possibilità di sentire direttamente la radio, direttamente negli auricolari. Questo è il modello di punta, il modello che qua Evoa ci ha dato grandi grandi soddisfazioni. Basta indossare questo collarino, si indossa questo collarino attorno al collo, lo si posiziona sotto la giacca, si connette il jack alla radio, ovviamente ogni radio avrà il suo jack specifico e poi si attacca il microfono e il push to talk direttamente alla giacca. In questa maniera io posso parlare, posso sentire con gli auricolari quindi nell'orecchio e questo ci dà la possibilità proprio di restare in comunicazione con i compagni di battuta. Il discorso è che sono dei modelli adatti a tutti i padiglioni auricolari, quindi tre diverse misure. Nella scatola noi troviamo, oltre alle batterie, troviamo tre misure di gommini, quindi piccolo, medio e grande, in maniera tale che possiamo coprire il 99% delle grandezze dei condotti uditivi. Diciamo che il comfort di questi gommini è stato studiato per assicurare un'intera giornata di utilizzo, quindi tranquillamente uno inizia la giornata di tiro o la giornata di caccia e toglie gli auricolari alla fine della giornata, garantendo quindi una protezione totale e un comfort davvero molto elevato. Ricordiamoci che pesano solamente un grammo, quindi nell'orecchio è come davvero non avere niente, però con i vantaggi di tutto quello che questi auricolari piccolini possono garantire.